Nelle province di Catanzaro, Cosenza e Vibo Valencia, su iniziativa del comandante della Legione Carabinieri Calabria, generale di Brigata Pietro Salsano e di concerto con il comandante della Regione Carabinieri Forestale, colonnello Giorgio Borrelli, è stata eseguita l'operazione DIP, un intervento complesso in materia ambientale attuato mediante l'impiego coordinato e simultaneo di squadre congiunte, composte da carabinieri dell'Organizzazione Territoriale e Forestale affiancati per la perlustrazione di aree impervie e acquiterinose da squadre operative dello squadrone Eli Portato Cacciatori di Calabria, con il supporto aereo dell'Ottavo Nucleo Elicotteri Carabinieri di Vibo Valencia e per il controllo di mirati obiettivi da personale del Nucleo Operativo Ecologico di Catanzaro. L'operazione si è conclusa con 13 denunce per reati ambientali, 5 siti sequestrati tra impianti di depurazione, vasche di contenimento, fanghi e attività produttive inquinanti. 22 siti in cui sono stati riscontrati illeciti penali e irregolarità amministrative e sono state combinate sanzioni amministrative per un totale di 500 mila euro. La Task Force ha controllato 58 siti di depurazione, 15 pompe di sollevamento ma anche aree palustri e canali di scolo in prossimità della costa, annesse ad attività produttive. Sì, preventiva perché abbiamo notato dai dati ISPRA, soprattutto che sono pubblici, come i fanghi prodotti qui in Calabria come residuo delle lavorazioni delle varie aziende sono veramente minimi rispetto ad altre regioni. Quindi ci siamo posti il problema di capire come mai e perché ciò accade. L'unica spiegazione plausibile era che purtroppo in molti casi sia i depuratori sia altre aziende non rispettano il ciclo ambientale e quindi non vengono fatte quelle depurazioni che poi sono necessarie per garantire la salubrità dell'ambiente e del suolo. Siamo partiti inizialmente proprio dalle acque, quindi sia fluviali che marine, anche perché statisticamente abbiamo notato che durante il periodo estivo poi le acque tendono a intorbidirsi con una certa facilità. Visto che avete un mare splendido sia sul tirreno che sullo Ionio, è davvero un peccato anche da un punto di vista turistico, oltre che quello della salute. Quindi abbiamo deciso di fare questa operazione, credo al momento unica nel suo genere e insieme alla nostra componente forestale, l'organizzazione forestale che fa parte dell'arma, come sapete benissimo, e dire a tutti che la polizia ambientale in Italia è l'arma dei carabinieri, uno. Due, far capire a tutti che coloro che hanno questi attività industriali e tutti coloro che anche a livello comunale gestiscono i depuratori, tenete presente che in Calabria ce ne sono più di 300 di depuratori sull'intera regione, noi oggi ne abbiamo sviluppati 58 solamente, però in una fascia che abbraccia 208 chilometri di costa, quindi da Tortora nel Cosentino a Nicotera nel Vibonese. Sono emersi purtroppo diverse infrazioni, diverse cose che non vanno bene. Tenete conto che circa il 30% degli obiettivi era fuori norma, ed è, potete immaginare che cosa questo vuol dire, insomma.